Buona fortuna a tutti. Vi presento allora l'ultimo pezzo che è Santana e Portrait, l'arrangiamento di Giancarlo Gazzani. Questo arrangiamento per banda di Giancarlo Gazzani vuole essere un omaggio al grande chitarrista messicano Carlos Santana, divenuto famoso verso la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. La sua musica è una miscela di rock e ritmi sudamericani che dà vita al rock latino. La creatività e la carriera di Santana procedono parallele al suo cammino spirituale e nel senso musicale questo cambiamento lo porta ad avvicinarsi notevolmente alla musica jazz. La banda di Letinara vi propone allora alcuni brani famosi come Flord Luna, Oye Como Va, Europa e Smooth, Santana e Portrait, Sandra Drago e la banda Città di Letinara. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.